Vado avanti a vomitate tra la gente che si affonda Eccomi! Ce l'ho fatta! Ho sfidato il mare in tempesta, ho nuotato per miglia e miglia per arrivare in questa terra straordinaria, la Liguria. Sono qui per un evento imperdibile. E Calli, momenti cado. Voi direte, ma perché dopo aver nuotato così tanto sei ancora asciutto? Come l'ho detto? Andiamo. Ecco qua, il mio navigatore digitale mi ha portato in questa terra straordinaria. Guardate che mare meraviglioso, impossibile non innamorarsi della Liguria. Ah, che meraviglia. Ah, salve, salve. Ah, sei arrivato? Sì, sì, sono arrivato dal mare nuotando per la Silent Disco, sto cercando. Silenzio! Silenzio. Vai a mettere a posti lettini. No, ma io veramente per la Silent Disco... Silenzio, vai, là. Non andava bene, vero? Chiudi l'ombrellone, va, meno quello. L'ho chiuso! Ma che fai? Sei sull'Altalena? No! Passa la radassa. La che? La radassa! La radassa! Mi può dare una mano un attimo? Ci pensi lei perché io devo andare alla Silent Disco? Ecco, l'ho capito. Buongiorno, mi scusi. Buongiorno. Ma è vero che in una spiaggia delle tartarughe hanno deposto delle uova? Sì, guardi, proprio qua vicino. Sono arrivate a fine di giugno e schiuderanno a fine di agosto. Ma che meraviglia! Sì, siamo fortunati! E allora proseguo! Qua davanti! È meravigliosa questa terra, la Liguria. Grazie, grazie! Lei la conosce la Silent Disco? È quella musica che tu ascolti con le cuffie. Come si balla? La 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 la! E meno male che tu avesse Silent Disco. Meno male che tu avesse Silent Disco. Che fate? Venite stasera? Secondo me loro verranno. Cosa? Cosa stiamo ballando? Non lo so, non lo so. Signori, la Silent Disco in questo momento. E balliamo. Peccato che io non sento niente, però. Garma di Paggia, salutiamo gli amici di Camper! It's all so quiet. Cuffie prenotate e adesso mi vado a cambiare. Et voilà! E adesso prima di scatenarmi in pista, un bel aperitivo con i prodotti straordinari della Liguria. Andiamo, chiuditi! Ma che meraviglia! Qua abbiamo il nostro brand a cujun, l'insalata di polpo alla Ligure, i litrombetti con i pomodorini, la nostra focaccia col pesto, la torta verde, sardinara con le acciughe e i canestrelli. Il mare c'è, la cucina straordinaria anche. Impossibile non innamorarsi della Liguria. Mi piace la musica dance. Come si balla! Balla! Se non l'avete capito, questa è la Silent Disco qui ad Arma di Taggia. Valentina, la Silent Disco è sicuramente un modo innovativo per ascoltare musica e per ballare. Ecco, ma quali sono i vantaggi? Grandi e piccini possono partecipare indistintamente, si divertono tutti allo stesso modo. Poi c'è un po' di inquinamento acustico, perché comunque con le cuffie si canta, si sente il rumore da fuori, ma non c'è la musica, insomma. Andiamo a buttarci... La mischia! Si balla! Beh, devo dire che la Liguria è veramente la meta ideale per chi vuole innamorarsi. E allora? Certo, però ballo da solo. Ciao amici di Camper!